Vestiti firmati, computer, super tecnologici e prodotti di lusso, insomma un tenore di vita davvero troppo alto per il reddito che aveva dichiarato. Un dettaglio che di certo non è sfuggito ai finanzieri di San Giovanni Valdarno, che al termine dell'operazione Ursula hanno posto agli arresti domiciliari un imprenditore accusato di frode fiscale e recuperato a tassazione quasi 2 milioni di euro. L'indagine delle fiamme gialle risale allo scorso dicembre. I finanzieri, partendo dagli esigui redditi dichiarati dall'imprenditore finito nel mirino, hanno ricostruito un giro molto complesso sia per il numero di aziende coinvolte che per quello di fatture false messe. In sostanza, la Guardia di Finanza ha scoperto che l'imprenditore attingeva soldi dalle varie società in cui non aveva alcun incarico ruolo legalmente rivestito, simulando pagamenti attraverso giroconti anche verso l'estero. Parte di questo denaro è stata poi spesa per scopi personali, ovvero per l'acquisto di abbigliamento di lusso e dispositivi elettronici di ultima generazione. L'indagine ha permesso di scardinare così un'associazione a delinquere composta in tutto da 7 persone, dedita ai reati fiscali, societari e fallimentari, che nel complesso, attraverso società cartiere fatte fallire, ha sottratto alla tassazione redditi per oltre 14 milioni di euro.